Ciao fragoline, nuovo video! Allora, questo è un video che volevo spiegarvi come mai ho scelto il nome Fragoline86 per il mio canale. Allora, avevo già fatto il video dove ho spiegato perché ho scelto, diciamo, il nome di questo canale. Però, dato che so che molte persone si sono appena scritte e sono nuove, ho pensato di rifarlo un'altra volta. Questo però è l'ultima volta che lo faccio. Così spiego a quelli nuovi come mai ho scelto Fragoline86. Volevo anche chiarire una cosa perché tutte le volte leggo dei commenti sotto nei miei video o anche su Instagram. Mi viene sempre detto, ma tu sei dell'ottanta... 86. E io ci rimango sempre un po' così così perché non è perché è solo che io ho messo l'86 sul nome del canale. Allora io ho praticamente... la mia età è 86. Cioè, volevo farvi... volevo chiarire questa cosa qua. No, perché c'è chi non ha Instagram e non può vedere quando io metto le foto o le storie per il mio compleanno e la mia età, che l'ho sempre detta, di più su Instagram che su YouTube perché non è che posso continuare sempre a dire quanti anni ho. Però quando leggo sempre lo stesso commento, eh ma tu hai 30 anni e hai 30... però 30 anni non devi fare questo, questo... Cioè, non ho 30 anni, però adesso mi arriveremo anche su questa. Allora, però, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un video, lasciarmi un like a questo video e seguirmi su Instagram. Detto questo, quando avete fatto questa cosa qui... Allora, voglio spiegarvi questa cosa qua. Io non ho 30 anni, l'avevo già spiegata, però, ecco, cioè, io ci rimango un po' male quando qualcuno mi dà un'età oltre a quella che io praticamente non ho. Per cui lo dico subito. Io non ho 30 anni, non ho 29 anni, non sono dell'86, sono del 1995, non voglio ripeterlo più. E non voglio leggere più commenti del genere, perché, sinceramente, dopo un po'... Cioè, un conto se mi dai meno della mia età, ma un conto ricevere commenti come dire ma tu hai 40 anni, cioè... Ma non hai 40 anni, cioè, capito? Una persona poi ci rimane male, almeno il mio carattere così, in poche parole. Comunque, io ho 26 anni, l'ho appena compiuto i 26 anni. Guarda, andate sul mio Instagram, c'è la mia foto del mio compleanno, l'ho messo anche nelle storie, eccetera. Per cui io sono, diciamo, abbastanza piccolina, in senso che ho 26 anni. Non ho 30 anni, come dicono tutti. Certi mi danno 20 anni, che già ancora dico, va bene, grazie, cioè, capito? Sono più piccola. E certi mi danno anche 35 anni, ma io non ne mostro... Cioè, sembra, ma... Non sono così grande, per cui, cioè, boh, io certe volte ci rimangono un po' di... Sinceramente, di merda. Comunque, io spero che questa cosa sia capita. Veniamo al nome. Allora, io da 8 anni che ho il canale, ormai è da 8 anni che ho aperto il canale. All'inizio, il mio canale si chiamava Banana33, per farvi capire che il nome era un po' maschile. Avevo scelto due nomi, Banana33 e WhiteBlack, qualcosa del genere, bianco e nero. Più o meno, eh, qualcosa del genere. Non mi piaceva il titolo del canale, per cui, alla fine, quando ho deciso di fare dei video e provare anch'io a farli, dato che ho un carattere... Io sono molto timida, per cui, per me è difficile anche registrare dei video e metterli su YouTube, perché pensi che poi ti li guardano milioni di persone. Ma sul mio caso non c'è problema, perché sono solo 50 persone che guardano i miei video. Comunque, per scendere da questo. Allora, all'inizio del nome del canale era Banana33. Perché? Perché c'è una canzone di Checco Zalone, che credo che la conoscono tutti, dove dice Ehi, sono Fragola86, tu sei da Pompei, qualcosa del genere. E poi, Checco dice E io sono invece Banana33. Vabbè, adesso non me la ricordo bene, ma ovviamente non me la canto, perché sono stonata. Però, per farvi capire, io questi due nomi li ho scelti, perché l'ho sentiti nella canzone di Checco Zalone, che cantava. Per cui mi piaceva all'inizio Banana33 e ho messo Banana33 sul mio canale, quando pubblicavo due o tre video. Poi, ho visto che non mi piaceva e ho avuto il coraggio di cambiare il nome e in più di fare i video. Alla fine, invece di mettere, di lasciare Banana33, ho cambiato e ho messo Fragola86, che è la canzone di Checco Zalone. Per quello che io ho scritto, ho praticamente, messo Fragolino86 per il fatto della canzone, perché mi piaceva la canzone, mi piaceva, a prescindere che, vabbè, mi piacciono le fragole, eccetera, però, il nome è perché mi piaceva la canzone e ho avuto questa ispirazione di prendere questo nome su questa canzone e metterla sul mio canale. Questo è quello che è successo quando io ho aperto il canale. Diciamo che in questi mesi, appunto, dato che sto avendo problemi, perché ogni volta ricevo sempre messaggi, appunto, sull'età, e ma tu hai 86 dell'86, ogni volta ricevo questi messaggi, a me mi danno un po' fastidio, come dicevo prima, per cui calcolate che io sinceramente volevo cambiare il nome, sia il nome che il numero. Solo mettere fragolina, sinceramente, non mi piace, preferirei mettere fragolina e il numero. Ho visto che c'è un cartone che si chiama fragolina 86, sia il cartone che qualcuno ha preso anche il mio nome, diciamo, su fragolina, solo fragolino, mi sembra, su YouTube, però non mi ricordo. E allora, dato che non mi piace copiare i nomi degli altri, preferisco lasciare fragolino 86. Volevo cambiare, mettere un numero in più, oppure cambiare completamente nome. Sono indecisa se cambiare nome, perché ormai sono otto anni che ce l'ho e mi sono affezionata a questo nome. Poi, anche quando faccio i video, è bello chiamarvi fragoline, in poche parole, per cui non vorrei cambiare nome. Non lo so, su questa cosa fatemelo sapere, perché sono un po' indecisa se cambiare nome o lasciarlo. Appunto, io volevo lasciarlo, anche se ricevo commenti sulla mia età, eccetera. Però, vabbè, ripeto, il mio carattere è così, per cui io mi offendo subito, sono permalosa e questo è il mio carattere, voglio già precisare. non lo so, fatemelo sapere sotto qua nei commenti cosa ne pensate se lasciare Fragoline86 o cambiare un altro nome che sinceramente cambiano un nome è difficile perché devi avere un nome che nessuno ha sul canale, su YouTube, praticamente, da tutte le parti e ho già pensato qualcosa ma non lo so, non mi suona bene, non mi piace così tanto, allora sono indecisa, non so cosa fare, per cui fatemelo sapere voi sotto qua in questo video e grazie per chi ovviamente mi scrive sotto se cambiare nome o anche qualche idee sul nome se volete che io lo cambio scrivetemi di fianco il nome adatto diciamo a me in poche parole questo è quello che per farvi capire perché ho scelto questo nome per il canale dopo 8 anni ovviamente sono tanto affezionata e non lo so vi dico solo questo comunque niente spero che questa volta avete capito spero che non ci saranno più commenti del genere della mia età ne ricevo di più su youtube che su instagram sinceramente per farvi capire comunque questo è tutto in poche parole vi ho spiegato anche a quelli nuovi iscritti come mai ho scelto questo nome su praticamente del mio canale detto questo spero che il video vi sia piaciuto aspetto sotto i vostri commenti lasciate un like se vi è piaciuto questo video mi sto già impappinando come sempre vi aspetto su instagram se ancora non mi seguite seguitemi che lì vi assicuro che tra foto e tutto quello che faccio sono la maggior parte tutte cose private detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao